Vertenza ex esattorie, mentre si avvia a faticosamente a regime l'operazione di riscossione del bollo auto regionale attraverso la nuova concessionaria del servizio, la RTI, che all'inizio aveva assunto solo 6 dipendenti invece dei 14 garantiti nella sua offerta, continuano a piovere polemiche e accuse, anche abbastanza pesanti, da parte degli ex lavoratori e delle agenzie private, abilitate anche loro a riscuotere la tassa automobilistica a nome della regione. In particolare ci sono delle analogie con il grande caos di fine anno 2013, quando l'ACI recapitò a circa 80.000 cittadini molisani le ingiunzioni di pagamento del bollo. Buona parte di queste si rivelarono infontate e tutti i cittadini che fecero ricorso in commissione tributaria per la scadenza dei termini della notifica vinsero il loro ricorso. È doveroso ricordare questo episodio per chiarire che anche con la nuova società che gestisce il contenzioso le lettere risultano essere state postalizzate a Napoli il 31 dicembre e risultano essere tutte in lavorazione a partire dal 4 gennaio, pertanto appare evidente che anche quest'anno, visti i risultati del 2013, molte persone faranno ricorso in commissione tributaria per contestare la scadenza dei termini, avendo ragione. Fin qui il bollo auto, mentre sul fronte degli ex dipendenti c'è Lorenzo Straccialano che fa notare alcune anomalie del concordato ottenuto da esattorie. La legge, dice Straccialano, stabilisce che i crediti di lavoro rientrino nella categoria dei privilegiati, ma la realtà è ben altra. Infatti tra i legali nominati ci sarebbero due avvocati già noti per aver rappresentato l'azienda in passato e in aggiunta ad essi un terzo che risulterebbe essere addirittura parente dell'ultimo presidente in carica della società. Nella procedura viene nominato come collaboratore esterno l'ex presidente di esattorie, regolarmente retribuito. Ciliegina sulla torta, conclude Straccialano, la procedura decide di indire una gara per l'assegnazione del servizio di scansione degli archivi cartacei dell'azienda che viene aggiudicata alla Descan, il cui unico socio amministratore risulterebbe essere sempre l'ultimo presidente in carica di esattorie. Poiché i compensi spettanti ai professionisti, ai collaboratori e alle aziende che operano per la procedura rientrano nelle spese prededucibili del concordato e quindi liquidate come tali, non resta che un'unica amara conclusione. I crediti riscossi nella procedura rientrano in parte nelle tasche dei proprietari dell'azienda e chi ci rimette sono sempre gli ex lavoratori, che ad oggi sono ancora in attesa di un primo piano di riparto.